Il caldo in moto è sempre stato un problema durante l'estate, ma come risolverlo? Oggi vediamo la soluzione. Il dry cooling vest della macchina è il gilet rinfrescante che questa azienda ha studiato per abbattere il caldo in moto. Da dove deriva questo gilet? Ogni volta me lo chiedono sempre, perché tutti mi dicono ma è un gilet rinfrescante in moto che non va inzuppato? Assolutamente no, questo gli va messa l'acqua all'interno, mezzo litro d'acqua naturale. Dietro nella parte posteriore del gilet trovate un incavo. Una volta messo non serve che sia fredda, basta che sia a temperatura ambiente perché tanto il gilet funziona tramite l'evaporazione dell'acqua. Come funziona? Molti me lo chiedono perché il gilet può essere usato in tutti i modi, non solo in moto. Anzi, ce l'hanno comprato per vari motivi. Potete usarlo in qualsiasi situazione dove avete la necessità di essere rinfrescati oppure per solo avere un sollievo durante l'estate e durante le vostre attività. Come al solito potete trovarlo sul nostro sito web www.oramonline.it oppure potete venirlo a provare e a vederlo nel nostro store a Modena in via Miliest 935.